Il primo turno infrasettimanale del nuovo anno, nonché la prima gara del mese di marzo, regala alla Trapani Alcatania un punto a testa, che di fatto non cambia nulla, ma che a lungo andare potrebbe restituire solidità e serenità a entrambe le formazioni, reduci da due mesi poco felici. I pareggi ottenuti rispettivamente in casa contro il Livorno e sul campo del Bari non hanno spostato gli equilibri sia per i Granata, sempre fermi a centro classifica, ma con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, sia per i rossazzuri che invece restano vicinissimi al tracollo, tanto che se il campionato finisse oggi sarebbero matematicamente il Lega Pro assieme a Crotone e Varese. Una situazione che necessita di una svolta e i risultati derivati dal turno infrasettimanale potrebbero restituire l'infa vitale a entrambe le squadre in vista di un mese di marzo da vivere in maniera intensa, prima del rush finale degli ultimi due mesi di una stagione lunghissima e imprevedibile come da tradizione per il campionato cadetto. Il Trapani continua a rinviare l'appuntamento con la vittoria, attesa ormai dall'inizio del 2015, ma al tempo stesso continua a non subire gol per la terza volta nelle ultime quattro partite, infatti il Cominista ha mantenuto inviolata la propria porta, nonostante al proprio cospetto arrivasse una squadra come il Livorno che fa del reparto offensivo uno dei propri punti di forza, visto che annova la gente del calibro di vantaggiato, si riguarda Galabinov, tuttavia lo stato di forma piuttosto approssimativo della Bronici, ha contribuito a garantire al Trapani il quarto pareggio consecutivo nelle ultime cinque gare e nello specifico il terzo 0-0 per Abate e compagni. Il Catania inoltre con il punto di Bari smuove un po' la classifica, ma deve immediatamente risollevarsi.